Insomma un pionta di corsa, così lo dobbiamo fare? Sì, un pionta dell'atletica retina si è prestata, si presta a far capire l'utilità e come può essere utilizzato questo ambiente per correre. Quindi siamo qui l'Unione Sportiva Polliciano, noi la Freerunner, che mettiamo in piedi questi allenamenti settimanali proprio per prima di tutto far capire come si può utilizzare e poi anche ci presteremo per chi vorrà a programmargli degli allenamenti in modo tale che possa continuare la gente a utilizzarlo come già noi facciamo per allenarsi. Quindi questo posto comincia a essere vivo, credo sia molto bello vederlo di gente tutta colorata che corre, che dura, fatica. Anche le associazioni si mettono insieme, anche questo secondo me è un bel segnale. Sicuramente e noi siamo perfettamente in linea con l'iniziativa che viene presa qui al pionta perché ci fa molto piacere di poter partecipare a migliorare questo che è uno spettacolo perché per me è un parco eccezionale come ce ne sono anche altri in Arezzo. Però ecco noi per la Pasquetta cercheremo appunto di riempirle di persone compreso passando anche dagli altri parchi di tutto Arezzo.